le nostre angosce, ci siamo finalmente riconosciuti uno nell'altro e abbiamo condiviso queste parole guerriere parole guerriere, parole che erano state abbandonate da tempo, in cui si era perso il significato e sono diventate delle arti potenti che abbiamo usato per cambiare tutto, per ripartare una realtà artificiale dove la finanza e l'economia, dove la meridogna e la verità, dove la guerra e la pazia dall'inizio all'inizio, mi raccomando onestate, partecipazioni, solidarietà, sostanzialità, si sono propagate con un'onda di buono e sono arrivati ovunque aggirizzando la verità politica, siamo diventati consapevoli e siamo arrivati a dire che il paese è in marcelle, lo sappiamo, e per quello che ci aspetta sarà un periodo molto difficile ci saranno tensioni, problemi, concreti, sparadietra e sacca, l'abbiamo trovata nella mattina e ci porta verso un futuro, un futuro forse più povero, ma vero, concreto, solidarietà e felici e c'è una nuova Italia che ci aspetta, ciao Francesca, ciao Francesca